Sedicesima giornata di andata del Gironei di Serie D. Allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo e il Messina di Oberdan Biagioni affronta la San Cataldese di Mono e il Milanesio. In cerca di riscatto ai giallorossi dopo uno scialbo pareggio interno a Redi Bianche contro le Roccella. A caccia di punti anche i padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive contro Troina e Rotonda. Bianco scudati rivoluzionati e con i nuovi acquisti Amadio e Fernante in campo dal primo minuto. Davanti Cocimano e Catalano ai lati di Tedesco. Messina propositivo in avvio, rispondono i padroni di casa con Bruno prima e Figarrotta poi, ma Lorenzon risponde presente in entrambe le occasioni. Ritmi blandi nei primi venti minuti, con i peloritani che ci provano senza sorte con Catalano, fino al venticinquesimo, quando serve un prodigioso Franza per deviare in corner la conclusione del redivivo Cocimano. Sul seguente calcio d'angolo, però, la San Cataldese riparte velocemente in contropiede, concluso con un bel tiro a giro di Montalbano che si stampa sul palo. Il punteggio si sblocca allo scoccar della mezz'ora. Cross di Figarrotta respinge Lorenzon sui piedi di Sicurella che chiama nuovamente l'estremo difensore brasiliano alla parata, ma sulla sfera si avventa Costanzo che svirgole il tiro al volo mandando il pallone sotto l'incrocio dei pali e mettendo così a segno il fortunoso vantaggio dei padroni di casa. Infruttuosi sono i tentativi di Tedesco, Barbere e Zappalà, con la prima frazione di gara che si chiude sul punteggio di 1-0 a favore della San Cataldese. La ripresa si apre senza sostituzioni, Messina sbilanciato alla ricerca del gol del pareggio, quando al cinquantacinquesimo dà un errato disimpegno di Zappalà per un soffio Costanzo non trova la sua doppietta personale, con Lorenzon che blocca il suo tiro senza patemi. Stessa sorte pochi minuti dopo, per la conclusione di Tedesco. Gli ospiti crescono e sono più concreti, tanto che al cinquantottesimo serve un prodigioso Lorenzon per salvare la conclusione dal limite dell'area di rigore di Montalbano. Nelle fila del Messina traditi rileva Cancè, ma il protagonista del match è sempre il numero uno verde oro, che prima su Rizzo e poi su Sicurella tiene vivo il team peloritano. Sussulto del Messina con un calcio di punizioni di Cenevie che Franza respinge con un volo plastico al sessantacinquesimo. Carini, intanto, prende il posto di Amadio. I giallorossi sfiorano il pareggio all'ottantesimo, corner di Cenevie, Franza esce a vuoto e Zappalà colpisce a botta sicura la sfera di testa con Calabrese che salva sulla linea di porta. Con il Messina, che perde ancora ed esce tra i fischi dei propri tifosi, ha corsi a San Cataldo per assistere all'ennesimo migliazione subita da una squadra in cui la città ormai non si riconosce più. Non ci sono infatti più parole per descrivere una situazione decisamente imbarazzante, così come non ci sono più alibi per aver toccato davvero il fondo. Mercoledì pomeriggio, intanto, si recupera il match contro il Castrovillari.